Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare le campanella così da non perdere le prossime uscite e questo è il video della nostra spesa settimanale allora siamo andati a prendere il solito caffè al negozio Le Cialde per la moto mio e abbiamo preso le solite gattopardo quelle rosse che sarebbe gusto ricco le prendiamo sempre e ci troviamo bene poi dai cinesini ho preso una lanterna perché voglio creare un centrotavola per un Natale semmai se farò il video voi ti puoi seguire anche il video dopo le batterie ecco il mio assistente e le lucine che servono sempre per fare la lanterna e il centrotavola poi mi serviranno altre cose che vado a prendere da Ticotà abbiamo speso 16,45 euro centesimi ah no io non c'ero perché stavo a casa mia nonna e lui sta male piccolino amore della mamma abbiamo preso? allora ma pezza pulisci al forno super assorbente non lascia l'ora e lunga durata ho preso il ricambio per il mocio quindi acqua Uncircus Uncircus questo è per il water una tavoletta 6 in uno come lo spulop con paneggina ho preso questo che è sempre dell'uncircus è la tavoletta con 6 rischezza è extra pulito, è extra schiuma profumo intenso, protezione dal caccare e è già inattiva tutto in uno a caccare caccare, caccare, caccare allora quindi non li possiamo far vedere che sono dei regalini per le mie amiche però facciamo vedere questo che è? mister muscolo per stappare gli ingordi per stappare i buchi delle cose del bagno abbiamo preso questo che è in granuli perché ho un problema con il lavandino del bagno chissà chi è stato a farci vedere qualcosina dentro eh io no mister muscolo monotose rapido monotose rapido elimina gli ingordi più costellati quindi ho preso anche questo adesso è il mister muscolo e c'è scritto in inglese eh sì e poi ho preso quando è per la tua casa panni cattura polvere i panni cattura polvere questi e poi ho preso per la cena di nicolas di stasera aia sottilissime panate cotolette di filetto di pollo panate dell'aia aia questa che invece sono cotolette di pollo della corte le cotolette della corte per noi per cena ci siamo presi giovanni rana cilicon carne ricette dal mondo in messico paparaparaparà lì si balla la samba no quella è la samba si balla in Brasile in Brasile poi ho preso da Rio tenderli triple plus l'originato tutto è così di a Rio a Rio tanna queste sono per le pizze di Topolino le croccomagie sempre per per la cena di stasera di nicolas e poi Topolino a cucina di Disney poi per il compleanno di Topolino che compie 90 anni oh mamma vecchietto sto Topolino questi per chi so per me ma dè o del tè il tè alla pesca tre bricchetti per nicolas domani rana crocchiette fresche queste per tutti e tre per domani a pranzo io ci eliminerei la F oh no vai diventare una parolaccia e poi i trofiette i trofiette li eliminerebbe a F oh pacco doppio i tuaglioli questo non c'è tutto niente ah pollice in su per 200 i tuaglioli di Auchan la marca la marca è così è così la marca questi di che sono mi mi cioccolatini a soldino per lui lui e Sofì me contro te Giovanni Rana pesto fresco di radicchio pesto fresco di radicchio questa è una novità di Giovanni Rana e ce le facciamo con le trofiette domani poi due vice due vice due vice come si chiama ma aspetta fammi leggere mai si vero birghe 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 bambuà che è una fà che fatti che facciamo a leggere in tedesco no ferrero rocce per me è per lui ferrero rocce quattro ferrero rocce perché so quattro e poi da Auchan finalmente è arrivata organic shop vanilla organica e orchidea orchidea sarebbe quindi ho preso la mousse per il corpo sono totalmente bio al 99% e ho preso il buro corpo con la vaniglia organica e l'orchidea e questa invece che è organic borago e sandano aspettate questo che è l'estratto di sandano e l'olio biologico di boragine per i capelli quindi ho voluto prendere questi due intanto da provare sono questo 250 ml e questo invece che è 280 ml io ho preso loro che sta a fare e vabbè adesso devo prendere altre cose dai cinesi e quindi ci sarà l'aggiuntina vero? quando? dopo è giunta della spesa settimanale siamo stati a Lidol mi ho speso 32 euro e 27 cioè che vediamo alta lo so e vabbè banane tre banane bresaola sono 100 grammi di bresaola caffè per la pazza a modo mio il passionale filetti filetti di perluzzo d'Alaska alla senape burger di salmone e sono due e sono da 180 grammi 4 burger di verdure questi sono buonissimi e sono 300 grammi il filetto di salmone con pelle questi 250 grammi l'aceto di vino bianco che l'avevo terminato un'aranciata questi due cachi vanigliati mi sa che sono questi un mango una bacchiella di farala cachi mela e il sapone per i piatti questo dell'idol che è il W5 super concentrato al mele del trentino quindi per ora era questa poi ci sarà l'aggiunta dell'aggiunta 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 allora tornata ora 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 dai cinesini e ho preso mi hanno regalato un calendario nuovo andiamo a fargli vedere la carta che regali la carta per i dettagli con gli orsetti abbiamo preso un rotolo di carta ho preso dei biglietti di natale da spedire per fare il video che vi dicevo prima ho preso un altro di questo perché ne voglio fare due quindi un'altra luce batterie sto facendo il ballo dell'ing altre batterie una corda che voglio legare qua intorno un nastro di natale l'ho scelto con questa fantasia queste mi servono per i regali delle mie amiche per attaccare i bigliettini e poi le pigne che andranno sempre per il tutorial e poi siccome voglio rifare le unghie mi sono presa il gel ho preso il gel monofasico UVO LED della Tertio e questo è la colorazione rosa infatti ho preso anche le cartone poi vediamo vi farò sapere come vanno anzi chi mi segue le vedrà su Instagram come vanno poi domani dobbiamo fare altra spesa quindi ci sarà la aggiunta quindi un bacio per ora ciao interagite sempre bravo allora ho iniziato a comprare le cosine per l'albero di natale e ho preso da mettere dove farò l'albero uno di questo super glitterato e argentato e l'altro invece in panno rosso e sopra ci metterò l'albero poi poi queste palline sul nostro albero è tutto argento e rosso quindi ho preso queste palline qui che hanno tutti i glitterini quindi riflettono anche le luci e sono due quattro sei palline quattro melette specchiate che sono troppo carine anche queste riflettono la luce quindi fanno un gioco carino vabbè mi sono presa gli incensi che li avevo terminati e ho preso mirra e ambra che mi piacciono e poi ho preso tutti i piocchettini di neve da mettere sempre sull'alberello rossi così vanno in contrasto con le palline che ho preso per ora sono queste poi domani devo prendere tutta la scatola che ho in cantina così vedo se poi manca qualcos'altro vorrei andare anche da tagliare che li hanno cose carine quindi aggiunta della spesa settimanale siamo stati a Lidl abbiamo speso 60 euro quindi abbiamo preso snack dei popcorn fatti vedere abbiamo vendito i popcorn salata alla ricca insalata mista insalata mista e sono 200 grammi due pacchi di bicchieri aromata bicchieri 50 euro e stroghino sprongolino dell'italiano non la mangiate sennò strulongolata e morite soppogate gastronomia di mare filetto di salmone con pelle sono 250 grammi di salmone pelle era un lottatore africano cennatür detergente intimo rinfrescante rinfrescante con menta e malvadio biscottini mammata le favorina biscotti pan di zanzero e miele la tu solita no che mandata piatti piani e sui per la pasta e per il pane cioè volevo dire per cibo americano ma ma ya ma ya albume di filetto di bollo che c'è un buon di uomo non mi piace non mi piace niente bio alesto bio mandorle bio mandorle codoni cocco bio gran generale car fantastico biscottini lanciereale cen feci e salviette struccanti della cen sacchetto di limoni bio biancabino 4 6 4 4 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 prese piccante, sono 120 grammi, altro patronus, l'aranciata, un litro e mezzo, una lattina di piccola e una salsa di pomodoro ciliegino dell'italiano, 15 bastoncini di pesce e questo invece che è filetto di merluzzo d'alaska alla senape, poi ci sono le monetine, i soldini, un mango, i tè a bricco, miele, questo che si preme, zenzero e gomme, chi me lo mette nella borsa e poi per ultimo vi faccio vedere questo fighissimo set di aromatherapy, è una figata, troppo carino, dentro ha gli oli essenziali di arancia, cappuccino, vaniglia, miele e cannella, calore del camino e ruggiata del mattino, poi ha le sfere per diffondere insomma gli aromi, due candele profumate e questo per mettere dentro le sfere con i diffusori, davvero carinissima e quindi questa era la spesa settimanale, vi metto solo di mettere un bel like, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, condividere il mio video, attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e io come al solito vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta, ciao